e dringhi rinoso su su d'ora intera costa smeralda ancora in compagnia de simone gru su dessa accademia de musica sarda saluti simone saluti a tutti si davvero andando andando e andando andando in trauso incustato a torio e entregava il sonno su de sardinia un mondo e entrato in sa chistioni de uno de sonno su de scannas a poeta de scannas a chinti su stupato sui moi di sardus antipoca un montone sonno su o entrato sa chistioni de su solito oi chistino uso de su solito esti uno de me da strumento su che si può antivai con gusta con sagana e in sardinia tenne uso diverso su strumento su diversa tipologia sa de solito e oi e usa chistioni proprio de gusto e quindi sa giurare anche questa in questa regione tenne su un maestro oi zeus indommu de vinicio sanna sartesano i fai di straballo su de solito su e launetasa e a su e launetasa andeus a chistionai insattopio che i peniti andava inizando su su maracalaconesi e drenchiri noso drenchiri drenchiri sa usunitto launetasa e drenchiri launetasa e drenchiri neta inizando su dove zeuso se sono entrato sul laboratorio di vinicio sanna che poi già sarà l'olpia e si va a non ragionare in paresi vincere su vado di tg questo sonno su spantoso di Sardegna e adesso avveriguendi in Piesinio i pipaiolo, senza sedeità parte, Simone. Partendo sicuramente a questionare questo pipaiolo del Loco d'Oro, che è il gusto supremo che vi ho detto, come ho detto prima, abbiamo tre tipologie di pipaiolo, questo è il suo primo, la caratteristica del gusto il suo pipaiolo è cadendo 13 il stampo sull'azienda e poi diventando uno, il suo stampo sull'azienda, scelta uno però, sull'azienda del suo strumento, è l'azienda del suo questa parte della ventana e del suo bico, però non è uguale ai altri, cambia da scelta le inclinazioni del suo strumento. Quando una casa non c'è una curiosità di pochino, sono poco acostumabili in Piesinio, ma anche in Sardegna sono due difficili, però, per ricapitare, sull'azienda è il suo sabato, ma non è accaduto al suo diretto. Sì, è proprio il suo sabato, questo è il suo sabato, il suo sabato è accaduto su una specie donna a diretto, questa canna è stata fatta a 3 tiget, ma in cui inizia si fanno il suo sabato, il suo generoso sabato, no? E questa è una parte che caratterizza proprio questa tipologia di strumento, il suo stampo si può fare a su o a su o a su o a su, e dunque questo elemento è una parte che è in me la caratteristica di donna Solittu. Andrà bene. E questo è il suo solito locutoreso? Del locutoreso. Il secondo è questo, nel caso questo è un pago diverso, però è il suo solito di marmilla, io ho dappi dentro il suo stampo in noi, io ho dappi pezzi aziende su noi, e sul stampato ho fatto, io ho dappi pezzi in prusso, sul pipiolo del locutoreo che ho fatto prima, io ho dappi pezzi a su o a su noi, dunque questo è un modo particolare simile nel suo solito di marmilla. Il nostro è una variante a mezzo diretto, tra il suo solito di marmilla e il suo solito su del locutoreso in pizzo. Sì, questi sono particolari, come ho detto prima, ho dappi uno stampo in prusso. Infatti questo è uno strumento, uno paghese per il suo acuzione. Parli uno paghese per ragionare delle varianti della lingua sarda, no? Teniamo il suo proprio strumento, il suo solito, però fa ridurre la differenza del suo proprio solito. E come questa lingua, il suo solito è il suo diritto. Teniamo uno solito, uno paghese per il basso, però tutto il suo solito, come questa lingua è il suo solito, è il suo solito, è il suo solito, è il suo solito, è il suo solito Questo è il suo pipaiolo di Barbagia. La particolarità di questo strumento è che porta scelte sul stampo su questo strumento, fuori 4. e le inclinazioni di questo bico è una mera prusata di questo pipaiolo. Questo pipaiolo è il suo solito. Questo pipaiolo è diventato in Gavoè. In Gavoè. In Gavoè. In Gavoè. E questa cosa più importante della caratteristica di questo pipaiolo è che non sei a metà di questo strumento, ma sei a Savini. In Accabu scelte e apposte su questo stampo su. In Sandozio non hai usato né parte bassa né parte alta del suo strumento, ma tutti uno. Tutto uno. Nareuso è che pure dopo questo strumento che è andato a questionare sempre per loro attentamente di ogni caratteristica, tutti i intervalli e le distanze tra la zona e l'altro, sono differenti. In questo abbiamo il tono, il tono è il mezzo 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 tono, e noi invece abbiamo il mezzo tono, il tono è il mezzo. In Sandozio, la regione è una cosa del sudretto dei sonni, in questo caso la musica moderna è l'estensione, il range, no? E poi non ci sono gli strumenti di AIC, dove ti pagano il sonno, però non ti vogliono essere fioriti o spantati, no? Sì, sì. Dunque la distanza tra la zona e l'altro in musica è questo intervallo. sul range, come eravamo giustamente prima, la distanza tra il basso e il basso. Per esempio, se questo strumento supporta il tavaco suono, non è che teniamo su un range, ma non sono importanti. Però, dopo ciò che ricorda sempre, che sui piolo mancai, se ti hai scelto una linea solo, una linea melodica, però poi ti tornai a fare tutta questa linea melodica, questa virtuosismo, il stabilimento, su cui poi ti fai una mancosetta di Salaunetta, dunque tutti i zafroriggi su. Infatti, il solito il pipioloso è ripetendo in meta, tutte le frasi e il fraseggio su cui vai di Salaunetta. Poi usi un po' il sonno su bella festa. E devo appoggiare in YouTube, che ho accettato oggi, che vengono questa possibilità, se non c'è la festa, se non ti vengono, se non ti vengono un anno. Uno concerto del pipioloso, due persone si faccia appare se sono andati in concerto. Sì, questo si narra su sonai in pari, si narra su sonai a Concordio, e si può di fare sia tra strumenti uguali, come tra launetta e launetta, il pipiolo e il solito, ma anche tra strumenti differenti, dunque launetta visarmonica, il solito e il solito e il solito e il solito. Poneoso, una pregunta difficile e traballosa, è in capo da non tenere neanche una risposta, ma di aonde stupare questo strumento? Storicamente, potremmo fare una fotografia del periodo storico che stupava questo strumento? Potremmo sapere sicuramente che questo è una domanda medio e specifica, sicuramente questo lavoro di un etnomusicologo, di un appassionato, uno studioso, come un'academia responsabile dell'Academia di Musica Sarda, si occupa dei suoi strumenti, dei seguiti e dei portai innanzi, se vuoi generazioni beneditori, tutte queste informazioni, però questo è una domanda più etnomusicologica. In realtà, chi è sicuramente interrompendo dei spifferi su Romano, su Greco, però non potremmo dare un'informazione precisa, è più storica, sull'organologica. Nel suo nascimento, non voglio farmi restare. in realtà, se abbiamo avuto i suoi strumenti differenti di Pippiolo, e vincere la domanda, questa differenza, ma anche questa propria domanda, cosa cambia la domanda? Eh, dunque, questa domanda non cambia la domanda, nel senso che per usare un strumento, per usare la mano, per usare la mano, per usare la mano, per usare la mano, per usare la mano più potente, quindi, giustamente, per usare la domanda. per usare la domanda. Io voglio, in noi, il poeta prima, io ho chiesto di questo stampo e di questo nome, ma io voglio chiesto di questa parte, che è questa ventana, questa ventana, questa è una ventana, questa è una caratteristica e distintiva di chi è questo artesano che ha fatto. Ah, come su Marco, la firma di questo artesano, per usare? Per usare, per usare, questo artesano che ha fatto millimetri a fare questo stampo e si infetticendo con le inclinazioni, ma è un altro artesano che ha fatto il lavoro su un paquetto proprio grosso e proprio scelto con due assiccate. Cambierà avvenza il suo senso da questo grosso a questo grosso grosso? Certo, cambia da me la poeta, questo è un'avvissaria di vestiti e dunque è davvero... E questo è un'avvissaria che fa il suo senso, una rosetta? E contribuisce da me, da noi. E, l'ultima parte, io voglio chiedere il gusto di questa parte, che è il suo dupone e la qualità di questo tipo è importante per quanto riguarda la qualità della sua zona finale. Ti chiederemo un po' una stralicienza. Il suo dupone non è una dupamanna è una dapu, no? Una dapu, giustamente. Questo dupone può essere fatto in diversi materiali, sì. Due artesani che sono che fanno in linna, preferendo i suoi salici, quindi il salice, ma altri che sono che fanno in ottico del norma con il suo pipaiolo del Barbaggia è stato consortico. ma anche in un altro dove è finita con il suo vero in italiano. Questi materiali sono stati spostati in casa. Ehi, saluti Vittorio! Oh, saluti il suo maestro! E grazie a questo suggerimento del museo. Ho entrato il suo maestro con questa materia prima con le canne. con questa canna può fare un solito, dai? Andate a venire. In San Duso mi pare che a noi da 100.000 se ci sono e ci sono come ti nasci dai mani del suo maestro su un solito sardo. Va bene. San Duso, il suo maestro teni su questa canna. In te per uscire da questa canna può cominciare a fare un solito? Allora, questa è una canna che è stata segata in il suo periodo giusto da dicembre a marzo si può segare sempre a luna che è l'antico mentre in 90 pezzi. Questo è dopo la giornata perché sia una bella stagionatura che si definisce dei suoi colori e la canna è una canna femmina. E' una canna femmina se è una canna masca è quella che si impara solitamente può fare la mancosa e la mancosa Allora, la prima cosa dove vai? Questi sapate adattano per uscire per uscire per uscire questo strumento e si comincia a fare il primo staglio e lo faccio quando non c'è lo sacchetto in questo modo Questo è proprio in suo particolare in suo lavoro del laboratorio del suo maestro Dando il suo maestro con questa canna ti hai questa idea? Allora, con questa canna con questa canna è una canna in cui si può costruire un solito in tonalità di Do poi in base a questa grussaria sul diametro interno a occhio non hai questo che si impugna Come ti parti? Parti del soggetto o di un'idea? Vuoi uscire una tonalità o di un soggetto che vuoi uscire Sì, solitamente non hai questo quando c'è per esempio un sonatore che mi domanda uno solito un Do deve andare adatto a fare i gussi di tonalità e questo non hai questo una canna che è adatto a fare un Do e quindi in base a un altro che ho avuto questa canna in base ai gussi non c'è solitamente in Perù un altro solito è un'idea che è un'idea di andare in misura precise in modo che non abbia problemi dopo di stampare e quindi solitamente questa tonalità è un'idea che si può perdere fuori del mondo tecnico è questo un modello? Allora Sastiba io tengo questo di Launet in cui è riportata la Launet nella sua figurata è dovuto essere stampata a misura reale e il solito dopo la prima via di Aici e poi magari meglio imparare sul solito direttamente in base ai gussi a grussi invece in Sastiba su spessori e quindi poi assimilare a grussi e quindi poi rendere meglio su e prima sul solito In Sastiba prendere il solito a stare e confrontare ecco io uso questa ganna più o meno a grussi e quindi in base ai gussi riportare le stampate su questa ventanella a questa misura giusta ecco io uso e poi marcarlo questa inclinazione sulla nubile per questa azuta ecco e noi marco la ventanella che è di noi e il bico poi riporto la linea della ventanella che è andata ai barri ed è andata a questo capo in modo che se fosse degustare posso andare sul guscio per il bico in modo che a voi su chi interessa è il sud con la ventanella questo è che ha una la limpieza del suo solito al suo solito al suo strumento guardate che ti racconta se dentro questa ganna quando ci basse la saria e quali punti di tutte le parti che dipogano il suo solito o che caratterizzano il suo solito allora il suo solito ne dobbiamo questa quantità di aria che basse da in pizzo e risulta questa segata che ha la ventanella del suo aglio in pratica ci deve essere una percentuale di aria che ha iniziato a pizzo e una percentuale di aria che ha iniziato a pizzo è tutto un guise che dipende da questa limpieza del suo solito quindi il suo costruttore ha forza e in cui imparano a comprendere come ci deve essere fatto sull'appo infatti sull'appo ci deve essere più preciso possibile in base alla profondità del del suo sguiscio che ha iniziato sull'appo e fino a questa precisione che ho questo è tutto debolito però è preciso che è preciso sull'appo e dopo il suo sguiscio 10 questo è il suo il suo il suo il suo è il suo questo è questo è uno dei primi che mi è abituato a imparare il gusto specialmente per i stampi il suo il suo il suo il suo il suo il suo molto importante che fare un obliquo e andare a la 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 non si spaccano senz'altro quindi questo è molto importante e per le prezioni 6 6 senza essere sapermi una delle cose importanti si sbagliato in pratica in pratica ci hai il fogliario che tu la fai un altro strumento ancora che è più forte poi vai sul sghiscio di questa ventanetta Allora, una volta che ho fatto questa ventanetta in casa di più passare a su d'appo, io solitamente sulle unacime di lavoro prima con sudornio e quindi il risultato è già uno d'appo ben allisciato che deve essere provato in su solito, in questo caso non è così che è perfettamente coincidente, infatti è esibito in questa ventanella con questa canna quindi da un marco in noi questa ventanella, poi puoi secare su d'appo ecco, ora in noi uscire che deve essere secata un marco sul centro che deve essere solito, ecco qua in pratica in noi e in noi mi faccio sul sghiscio sull'innole per ricavare il suo passaggio dell'aria questo mi faccio con il taglierino e poi una volta che dopo vado si invito in questa ventana ed ecco che dopo si invito l'aria ed è praticamente perfetto e liscio questo oramai abbiamo già provato e resti perfettamente coincidenti con la canna di su solito e su solito è bello fatto? in questo il vaso e poi c'è il vaso in cui si fanno i stampi e i stampi è una cosa più semplice che si rispetta il tipo in tutto il prodotto e quindi rispettendo le distanze si deve discostare la tonalità di i stampi quindi si notano chi deve essere simone se siete resi parti di questa bestia a pizzo di subipiolo una parola che ti intende solo ma anche in esattopo tradizionali di questa musica dove ti intende? dove ti intende? dunque se non è che subipiolo questa storia di Sardegna in maniera molto amatoriale da chi è stata da solo in casa negli pastori agli agricoltori quando erano da solo costruendo uno dei strumenti semplici pur di vai mancato uno fu insusato e si fai in esattito e ci spiega delle zone e da riprere con una nota che è l'intento di un professionista ma anche con un altro strumento puro però non siete più scarecchi che su Bipiolo, su Zulitto, in tutta questa Sardegna tenete la possibilità di fare questa linea melodica chi va di sapere cosa è da questa sagana propiettica di Isla Unedda sai chi vuoi fare questa linea melodica con il sablemento su Bipiolo o su Zulitto torna da ripeti questa linea melodica dunque a direzione che potremmo intendi mancare con una zona di Isla avrà su Zulitto torna da ripeti con una nota dei balli su Mannus o Nereus fatti su La Unedda dunque a Simone, nel regionale, chi non c'è l'intento che potremmo intendi con una nota di questo strumento? dunque a Simone, potremmo intendi un canto di una nota picchiata fatta da Michele Dejana che è un maestro di La Unedda di l'Accademia di Musica Sadra ma sei un grande suonatore di Bipiolo e su Zulitto a sua propria maniera dunque a si goza oggi a Michele Dejana da un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.